Sarà lo stadio Razio Raiti di Biancavilla in provincia di Catania a ospitare il prossimo 30 gennaio alle 15 la finale di Coppa Italia di eccellenza a memoria al Gianfranco Provenzano tra Canicatti Calcio e Marina di Ragusa. L'ora le sono otto ieri sera la Lega Sicula che ha motivato questa decisione con problemi di ordine pubblico. La gara infatti era in programma allo stadio Dino Liotta di Licata come da regolamento della FIGC e l'impianto sportivo della squadra che lo scorso anno ha vinto il trofeo regionale. Ed infatti anche a Biancavilla l'organizzazione della gara è affidata a Licata Calcio. La società del presidente Danilo Scimonelli ha espresso amarezza e delusione per questa decisione appreso con amarezza e scoramento dai vertici federali. Scrive la società gialloblu in una nota che le autorità preposte per gravi motivi di ordine pubblico hanno optato per una variazione di sede della finale di Coppa Italia del campionato regionale di eccellenza con grande senso di responsabilità nel rispetto assoluto delle istituzioni sportive della figura del presidente della Lega Santino Lopresti e dei suoi collaboratori con cui siamo stati in costante contatto telefonico in questi giorni. Nonostante la gara non verrà disputata allo stadio Dino Liotta di Licata, per noi una grave perdita economica, anche per le nostre realtà commerciali, ci siamo comunque messi a disposizione per organizzare la finale di Coppa così da evitare un nuovo precedente dopo quello dello spostamento della sede. Spettando a Licata nella qualità di società organizzatrice la scelta del campo con avallo della Lega finale dopo una serie di attente valutazioni abbiamo optato per lo stadio Orazio Raiti di Biancavilla comunicando la scelta alle due società interessate. Ci venga con gesta una riflessione la mancata finale al Dino Liotta, diritto peraltro guadagnato sul campo, è un'occasione persa e dalla quale lo sport in generale e il calcio in particolare ne escono sconfitti, aggiunge il Licata Calcio. Detto ciò, certi che comunque si tratterà di una sana giornata di sport, auguriamo le migliori fortune alle compagini impegnate. La società biancorossa ha accettato di disputare la finale a Biancavilla e già fervono i preparativi per la finale di un trofeo che il Canicatti Calcio vuole vincere a tutti i costi.